Il racconto ai nostri microfoni della 69enne di Campo San Piero, brutalmente aggredita e derubata all'oreggia in pieno giorno. Il femminicidio di Camisano nel 2012, Mirko aveva rotto un braccio alla moglie negli ultimi mesi. La donna aveva chiesto l'intervento dei carabinieri durante due litri. Si fingono tecnico della caldaia e assistente sociale e truffano due pensionati di Barbona, arrestato una coppia di nomadi. Accusa su presunti fondi percepiti dall'istituto che dirige, il candidato 5 Stelle risponde agli attacchi su dimesso lo fango perché hanno paura. Il candidato Biton ci presenta il programma sulla viabilità, trasporto pubblico completamente elettrificato e parcheggio alla Prandina. Oggi tappa la Paltana con la nostra rubrica La Voce dei Quartieri, residenti chiedono più trasporti e illuminazione della zona. Operai dell'Anselmi impiegati per il presidio del sito della Fonderia, la Giunta regionale Stanti e i fondi che integreranno la Cassa Integrazione. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padovi, in apertura alla cronaca abbiamo incontrato la donna che mercoledì pomeriggio è stata aggredita brutalmente e derubata in pieno giorno a Lorencia. Mi ha sferrato un pugno nella guancia così forte che mi sono un attimo stordita, poi con la sua mano sinistra mi ha graffiato leggermente, mi ha fatto dei danni al dente, mi ha tirato giù il dente e naturalmente con la mano si è abbassato e ha afferrato la colana. In quel momento io ho capito tutto e mi sono protetta la gola per paura che mi strozzasse, mi ha detto di lasciare andare la colana che lui aveva la pistola e mi ammazzava. Mi sono sentita in difesa, mi sono sentita proprio fragile perché non potevo reagire in nessun modo perché ero bloccata. E' ancora sconvolta Rosanna Cosma, 69 anni, residente a Campo San Piero, aggredita brutalmente da un individuo sui 25 anni, scappato poi con un complice mentre si trovava a Loreggia. Tutto sotto la luce del sole, lungo una strada di solito molto trafficata. La donna è stata soccorsa subito dopo da due passanti che hanno chiamato i carabinieri, i militari l'hanno condotta al pronto soccorso dove è stata curata. Le ferite esterne si rimargineranno ma restano quelle interiori, ingigantite da un altro episodio per lei drammatico. La rabbia è grande perché appunto avevo già subito una rapina qua in casa sei mesi fa e ero in casa e li sentivo e ero oltre la porta e loro mezza casa hanno fatto quello che hanno voluto a casa mia. Rabbia che aumenta perché oltre al danno la beffa. Non c'è nessuna protezione anche a livello di spese, di sanità perché adesso avrò anche problemi, anche i cervicali magari le cure saranno sempre a carico mio e come me le fosse cercate. La discussione non poteva non correre al tema caldo della legittima difesa. Se avevo anche uno spray non avrei potuto fare niente in quel momento. Perciò è una cosa che la legge deve proteggere la persona che è nella proprietà, non chi va senza essere invitato. Il femminicidio di Camisano Vicentino nel 2012. Mirko Righetto aveva rotto il polso alla moglie ma lei non l'aveva denunciato. Intanto negli ultimi mesi i carabinieri erano intervenuti per ben due volte per sedare due liti. Ultimamente Nidia Lucia aveva problemi con il marito. Lo aveva confessato ad una collega della casa di riposo di Taggi di Villafranca Padovana dove lavorava come infermiera. La situazione si era inasprita ma mai nessuno avrebbe pensato che sarebbe finita. Così raccontano sconsolati i colleghi che ieri quando hanno appreso la notizia dell'uccisione di Nidia Lucia Lossa Rodriguez sono rimasti sotto shock. Il marito Mirko Righetto l'ha ammazzata a coltellate. In colpi al collo sono stati letali anche se si attende l'esito dell'autopsia sul corpo della 37enne per averne la certezza. Pare che non fosse la prima volta che Mirko Righetto originario di Campo San Martino mettesse le mani addosso alla moglie. Era già successo nell'aprile del 2012 a piazzola sul Brenta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri durante un litigio particolarmente violento l'uomo aveva strattonato la compagna talmente forte da romperle un polso. Lei era finita al pronto soccorso ma poi non aveva segnalato l'accaduto ai militari che però avevano potuto denunciare d'ufficio Righetto per lesioni perché la prognosi riportata da Nidia Lucia era superiore ai 21 giorni. Negli ultimi mesi inoltre i carabinieri erano intervenuti due volte nella casa di via degli Alpini a Camisano per sedare i litigi. Era stata proprio Nidia Lucia a chiamare il 112. Il marito in preda alla rabbia la minacciava. L'altra sera la furia omicida sarebbe scattata dopo che la donna avrebbe detto di voler portare via la figlia di tre anni. A quel punto Mirko ha impugnato il coltello a seramanico e l'ha colpita a morte. Hanno ingannato e derubato due pensionate di Barbona arrestata una coppia di nomadi. Devono rispondere di furto aggravato in concorso ai danni di due anziane di Barbona, Bruna Cattere e Loris Floriani, nomadi di stanza cerea nel Veronese. La coppia di conviventi ora ai domiciliari ha messo a segno un colpo lo scorso 3 febbraio nell'abitazione di una 77enne residente nel comune del Padovano. In quell'occasione la donna si era spacciata per assistente sociale che doveva verificare i documenti della pensione dell'anziana e della sua convivente, la cognata di 94 anni, annunciando fantomatici aumenti di mensilità. Poco dopo era entrato in scena il complice che si era finto addetto alla manutenzione della caldaia. Aveva chiesto alla 77enne di accompagnarlo all'esterno per un sopralluogo tecnico, lasciando campo libero alla Catter che ha rubato 3.000 euro contenuti nella borsa della vittima. I due erano quindi spariti. Solo in un secondo momento l'anziana si era accorta di essere stata derubata. Non era stato che sporgere denunce ai carabinieri che in un paio di mesi hanno incastrato i due nomadi. Professore di un istituto superiore Padovano, denunciato da uno studente per molestie, indaga anche l'ufficio scolastico. Una denuncia penale per presunte molestie. Ora anche l'ufficio scolastico provinciale sta aprendo un'indagine sul professore di un istituto superiore del Padovano. L'uomo è stato accusato da un suo studente che ha dichiarato agli inquirenti di essere stato vittima di un approccio fisico da parte dell'insegnante. Pare che tutto sia cominciato lo scorso novembre dopo uno scontro tra i due che ha causato la sospensione del giovane. Una volta riammesso alle lezioni, il professore avrebbe cercato di riappacificare la situazione e gli avrebbe proposto incontri a casa sua per fargli recuperare le materie in cui era carente. Avrebbe iniziato approcci fisici e sarebbe passato a messaggi sui social con sfondo ambiguo. Il 19enne ha segnalato la cosa al preside mostrandogli i messaggi ricevuti. Al momento nessun provvedimento sarebbe stato preso nei confronti del docente e pare che l'uomo abbia tenuto lo stesso comportamento anche con altri studenti. E siamo alla politica. La macchina del fango si è messa in moto anche a Padova. Così Simone Borile risponde agli attacchi sul suo lavoro di direttore del CIRS e sui presunti fondi europei. I poteri forti temono il Movimento 5 Stelle, ha detto il candidato sindaco. Questi fondi di cui appunto si parlavano i vari giornali non sono mai stati presi dall'istituto universitario che io dirigo perché per legge non può beneficiare di alcun finanziamento pubblico. Il candidato del Movimento 5 Stelle fa chiarezza. Simone Borile risponde alle accuse un attacco rivolto alla sua sfera professionale. Nelle scorse ore era circolata la voce che la scuola di mediazione linguistica CIRS, di cui è direttore, aveva percepito fondi regionali. Una notizia assolutamente falsa, dice Borile, messa in giro ad hoc per attaccare un candidato che sta acquistando consensi. Un mandante può esserci, può essere a Canal Grande. Sappiamo perfettamente che chi in un qualche modo occupa una posizione politica importante a Padova e a Treviso, prima o poi arriva anche alla conquista del Veneto. Quindi ci sono stati, a mio giudizio, anche delle disposizioni che sono partite proprio dall'alto per cercare di affossare un candidato che viene visto pericolosamente vincente. Un attacco non molto velato dunque alla Lega Nord. Per Borile, chi ha diffuso la notizia, ha confuso il CIRS con un altro ente di formazione, sempre da lui presieduto e regolarmente accreditato in regione. Il candidato pentastellato annuncia che prenderà provvedimenti. Sul fronte interno delle comunarie, Borile invece non teme l'intenzione di Leonardo Forner di presentare ricorso. Io proseguo, a me interessa affrontare i problemi della città, proporre risposte. Tutto il resto a me non interessa. Il candidato sindaco legista Massimo Bitonzi invece annuncia la sua idea di viabilità per Padova. La regione proprio in questi giorni ha diramato con una delibera quello che è ovviamente un finanziamento importante per i comuni di Padova. 15 milioni di euro che per la maggior parte vanno in mobilità elettrica. Quindi acquisto di 11 bus elettrici, completamente elettrici. Dopodiché anche per i sistemi di mobilità intelligente. Una parte di questi fondi saranno utilizzati per il social housing. Quindi una parte per ristrutturare 70 alloggi dell'ERP. E anche per sistemare un fabbricato che verrà utilizzato come ostello notturno per le persone meno ambienti. In zona Prandina, anche qui progetto importante. Già il demanio aveva dato il via libera all'acquisizione da parte del comune. Quindi penso che fra un paio di mesi, tre mesi, si possa partire con la procedura di acquisizione. Diventerà il più grande parcheggio di Padova. Verrà spostata la strada, non più adiacente alle antiche mura padovane del 500, ricavando anche una pista ciclabile. Continua il nostro viaggio nei quartieri di Padova per capire cosa chiedono i cittadini al futuro sindaco. Ecco la rubrica. La voce dei quartieri siamo stati alla Paltana. Se uno deve arrivare zona stazione, ad esempio, probabilmente se il servizio dell'autobus arrivasse direttamente in stazione, sarebbe già un buon servizio che migliorerebbe le cose. Il nostro viaggio nei quartieri padovani, per capire cosa vogliono veramente i cittadini, prosegue oggi con la tappa della Paltana. Il toponimo, dal dialettale Paltan, Fango, ben fa capire l'origine di questa zona, legata al fiume e alle sue inondazioni nell'Ottocento, quando gli argini del Bacchiglione erano bassi. Purtroppo la Paltana fu uno dei quartieri di Padova più segnati dall'alluvione del 2010, con l'acqua che invase numerose abitazioni di via Vittorio Veneto e via Decorati. Un po' di negozetti, diciamo supermercato, perché è quella cosa che mi manca. C'è bisogno di parcheggi e magari anche servizi pubblici. Forse ecco il verde, avrebbe bisogno dei giardini essere messi a posto, un po' di verde curato meglio, quello senz'altro. Gli abitonti eravamo a posto. Ma cosa c'è bisogno nel quartiere? Quello che doveva fare. L'illuminazione all'interno delle strade secondarie è l'unica cosa che può scoraggiare. Dopo io sono convinto di una cosa, che Bidonci ha fatto dei danni enormi, praticamente distruggendo via Bassette ha riempito la città di gente che ci abitava lì ed è gente che è poco affidabile e in questo quartiere ce ne sono parecchi. La Giunta Veneta sulla richiesta della Quinta Commissione di trasformare in unità complessa l'Hospice di Padova che cura i bimbi malati terminali risponde in maniera negativa. Il Presidente del Veneto Luca Zaia però assicura che prenderà in mano la questione. Buffera sull'Hospice di Padova per i bimbi malati terminali. La Quinta Commissione Sanità aveva sollecitato la trasformazione in unità da semplice a complessa ma la Giunta Veneta pare non ci stia ad investire ulteriormente in una struttura che segue 700 bambini senza speranza di guarigione. Si tratta di un centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore, un esempio unico nel nord-est, il primo in Italia, e garantisce ai bimbi assistenza e terapie del dolore d'altissimo livello seguiti da quattro medici. Dal suo canto il Presidente Zaia garantisce che sarà data priorità alla questione. Onestamente non è che posso seguire e sapere di tutto. Ho visto anch'io di questa partita, l'approfondirò e se ci sono elementi che ci dicono che la direzione giusta è quella, si fa in quella direzione. Insomma i cittadini ci hanno delegato a rappresentarli. Però vorrei anche che si ricordasse che noi curiamo bene i bambini, vorrei che si ricordasse che adesso abbiamo sbloccato la partita di pediatria con un intervento di oltre 25 milioni di euro, vorrei che si ricordasse che la sanità del Veneto ha i primi posti a livello internazionale per la qualità delle cure di bimbi e di persone adulte e degli anziani. Fonderia Anselmi, lavoratori usati per il presidio ambientale del depuratore, il provvedimento è stato adottato oggi dalla Giunta regionale. Per evitare rischi all'ambiente e ai cittadini veneti la regione si incarica di realizzare un progetto di presidio ambientale alla Fonderia Anselmi di Campo San Piero, utilizzando proprio i dipendenti. All'interno infatti vi si trova un impianto di depurazione che deve essere mantenuto in esercizio e così i fondi garantiti dai capitoli di bilancio dell'assessorato allo sviluppo economico integreranno l'indenità di cassa integrazione e incentiveranno i lavoratori a prestare l'attività di presidio. Il provvedimento è stato adottato oggi dalla Giunta regionale, soddisfatto l'assessore Marcato. Approvata oggi la delibera del progetto di salvaguardia ambientale della Fonderia Anselmi di Campo San Piero. Un tassello importante in una situazione che era difficile e che via via si sta risolvendo. Un grosso abbraccio a tutti i lavoratori che con tanta deduzione hanno tenuto la loro posizione salvaguardando anche l'ambiente. L'attuale situazione dell'Anselmi di concordato preventivo e in liquidazione non ha risorse per garantire l'attività di controllo, sicurezza e mantenimento degli impianti. Ma con questa decisione della Regione i lavoratori della Fonderia potranno superare il periodo di cassa integrazione e presidiare il sito fino a quando questa importante realtà produttiva del Padovano non sarà affidata ad una nuova impresa. Giù sul tempo per ricordarvi l'appuntamento con Focus a partire dalle 21.05. Ospiti del direttore Luigi Baciali ci saranno questa sera Antonino Pepitone, Vittorio Zanini, Settimo Gottardo, Roberto Agirmo, Enrico Turrine e Luciano Sturaro. TG Padova invece termina qui, grazie per averci seguito e buona serata. Prevediamo su Padova, sul Padovano, per domani già in prima mattinata avremo una nuvolosità compatta con qualche precipitazione anche a carattere temporalesco, ma già nel corso della giornata nella seconda parte avremo un miglioramento, quindi una nuvolosità irregolare, anche qualche spazio di sereno. Per Pasqua inizialmente un po' di nuvolosità, poi ampi spazi di sereno e nel pomeriggio temporaneamente potremo avere ancora qualche formazione di cumulo, cumuli che localmente, ripeto, per un brevissimo tempo potrebbero dare qualche precipitazione, ma sarà di breve durata in modo molto isolato. Lunedì Pasquetta probabilmente sarà il giorno migliore, quindi una nuvolosità poco indicativa che copre solo in piccolissima parte del cielo, anzi nel corso della giornata poi tende a scomparire, ad attenuarsi. I venti saranno deboli, con qualche rinforzo dai quadranti occidentali. Le temperature tendono a calare nei valori massimi, quindi intorno a 19-18 gradi, addirittura per Pasquetta, quindi ulteriore caro, invece per Pasqua dovremmo superare i 20 gradi, i valori minimi intorno a 10-11 gradi.